La domenica perfetta per le molisane è finalmente arrivata alla seconda di ritorno, precisamente la diciannovesima giornata di campionato. E che domenica vogliamo aggiungere? Sì perché proprio in una delle giornate più difficili da calendario le rappresentanti del Molise hanno giocato il match perfetto. A partire dal campo basso, capace di espugnare il campo della capolista notaresco. Ancora una molisana da infliggere, una battuta interna ai primi della classe, sì perché il notaresco non perdeva in casa dalla prima di campionato contro il vasto Gidardi. I rosso-blu sono scesi in campo concentrati e con la giusta cattiveria, poi un super Pietro Cogliati, autore di una tripletta fantastica, a suggelare il successo dei lupi. Una vittoria strameritata che di fatto riapre i giochi di vetta, in particolare per il Matelica, ora a meno 6 dal notaresco. Rientra in corsa anche lo stesso campo basso, a meno un punto dalla Re Canatese terza, con un totale di 5 punti di stacco dal Matelica per il campo basso e 11 proprio dal notaresco. Sono ancora tantissimi punti di ritardo da Sanzovini e compagni, ma sicuramente i lupi hanno accorciato alla grande anche a livello morale. Nella mente dei tifosi, dei lupi, la rabbia ancora viva per i due punti buttati contro l'Avezzano, ma bisogna guardare avanti. La squadra lo ha dimostrato ed il successo contro la capolista è necessario anche per riprendere, come detto, morale ed entusiasmo. L'assenza di Alessandro non ha pesato, Cudini ha schierato poi due ragazzi esordienti, il portiere Raccichini e il difensore di Santa Croce di Magliano, Martino, nel ruolo di terzino destro. Entrambi si sono ben disimpegnati, dimostrando di poter garantire un rendimento di livello al tecnico, che adesso ha sicuramente qualche freccia in più nella scelta dell'undici iniziale. Non è subentrato il neo arrivato San Severino, altro elemento in rampa di lancio. Bene così per un campo basso che ha compiuto l'impresa di giornata e risvegliato l'entusiasmo dei tifosi e dell'intera piazza. Parte oggi la preparazione alla sfida contro il Tolentino, sfida al Selvapiana prevista domenica. Impresa anche in Alto Molise, l'Olimpia agnonese ha superato il rimonta 2-1, la terza della classe re canatese. Avevamo detto in settimana, durante le strisce quotidiane del Tg Sport, che il successo di Montegiorgio aveva portato l'infa ed entusiasmo in casa Granata e che al Civitella era possibile ottenere uno scalpo importante. Così è stato. Il cuore agnonese è venuto fuori dopo la prudezza balistica del molisano Davide Borrelli, direttamente da calcio piazzato. Poi il pareggio di Diarrà, con un crescendo dei locali durante la prima frazione. Nella ripresa equilibrio rotto dalla zampata del subentrato con E. Ottavo centro in campionato per il Colored, rete poi decisiva ai fini della contesa. Entusiasmo alle stelle per il pubblico Granata e per la società, con un agnonese che è tornato a vincere e convincere dopo due anni di sofferenza. La classifica, bella più che mai, con 28 punti, ottavo posto a meno 2 dai play-off e più 9 sulla zona play-out. Due terzi di salvezza sono in cassaforte. Ora bisogna continuare così per chiudere il prima possibile il discorso salvezza, a partire da domenica prossima, contro il Cattolica in trasferta. La giornata top delle Molisane è coronata anche dal successo del Vasso Girardi al Carotti di Iesi. Gagliardo ed entusiasmante, con i giallo-blu capaci di andare sotto nel punteggio, passare in vantaggio, vedersi pareggiare, poi fallire un rigore con Chirema Teng e andare a vincere al minuto 89. Davvero è successo di tutto tra Iesina e Vasso Girardi, con gli uomini di farina, bravi a cogliere, grazie alla rete messa a segno da pesce, un successo importante. Tre punti ottenuti fuori casa contro una diretta concorrente per la salvezza, rotto il digiuno di vittorie che durava da sei giornate. Tutti elementi che dimostrano l'importanza del successo ottenuto. Farina ritrovati i suoi uomini, mancava solo di lullo e con una prestazione sofferta e caparbia, è arrivata a una vittoria timbrata da Ruggeri, Petrone e Pesce. Bene così, anzi benissimo, con un più 6 ora sulla zona play-out, in previsione di un'altra sfida importantissima. In programma domenica prossima al Civitelle contro l'Avezzano.